A12 per gli stessi cantieri A11 chiuso l'allacciamento con la A11 in direzione Pisa e con la Aurelia provenendo da entrambe le direzioni Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Firenze in Prunita e San Casciano Nord per lavori Per quanto riguarda la viabilità cittadina per i lavori della tramvia chiuso il tratto via Mazzoni via Corridoni Restringimento di carreggiata tra via Tavanti e via Mazzoni Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio! Grazie!